parliamo oggi della quinta e della sesta puntata della seconda stagione di diavoli questa serie tratta dall'omonimo romanzo di guido maria brera e parliamone con spoiler quindi nel caso non aveste visto le puntate recuperate vele su now e poi tornate ad ascoltarmi in attesa del finale di stagione la prossima settimana perdonatemi se ho una voce più bassa ma mi sono svegliato senza voce quindi scusate la recensione la faccio lo stesso però dietro la macchina d'appresa jean maria michelini quanto sto apprezzando diavoli queste dinamiche interne che si compongono si scompongono fra doppi giochi giochi di potere di chi ci si può fidare e chi invece sta facendo il doppio gioco da un lato oltre a continuare a parlare di questa guerra sui dati ecco che ci si sofferma sui bitcoin è sparito il creatore dei bitcoin questa valuta molto importante e quindi dov'è satoshi nakamoto e il suo tesoro nascosto senz'altro lo si vuole scoprire abbiamo massimo ruggiero che lavora nella spac di dominic morgan e si fa di tutto per cercare di scoprirlo in un periodo in cui anche il 5g sta creando delle guerre sul controllo di esso così come ricordiamo è ancora a metà la ricerca su chi possa aver ucciso su chi possa aver ucciso damian cartis dopo kalim è morto anche damian cartis si parla di suicidio ma noi sappiamo che non si che non si tratti di suicidio ma che ci fossero delle persone che lo seguissero e che lo volessero uccidere sappiamo che kalim aveva scoperto questo programma segreto di sorveglianza cinese li wei lo ha ucciso oppure ecco che a un certo punto oliver harris butterà la bomba potrebbe essere stato dominic morgan perché riescono a trovare nel computer del nostro damian cartis mentre controllano con la moglie lo stesso spyware che hanno trovato all'interno della banca nel nel computer quindi siccome nel computer di leeway lo spyware era quello di dominic morgan ecco che si fa due più due e si scopre almeno noi spettatori lo scopriamo insieme a massimo grazie ad oliver harris che glielo dice telefonicamente che forse dominic morgan nuovamente stia tentando di mettere i bastoni fra le ruote a massimo ruggiero massimo ruggiero che se inizialmente era convinto che leeway centrasse dietro la morte sia di kalim che di che di damian cartis comincia a titubare ha un appuntamento anche con satoshi nakamoto solo che si rende conto di essere seguito e quindi manda un messaggio alla figlia per far dire al padre di per dire al padre di scappare anche lui però poi dovrà scappare perché verrà inseguito verrà investito da una macchina poco dopo essere riuscito a trovare questa chiavetta usb che kalim prima di morire aveva lasciato nascosta al nostro massimo che scopre anche a cosa corrispondessero quelle cifre quel codice cifrato mandato dall'amico via messaggio cioè era il numero delle linee delle fermate di un autobus e ci trova proprio alla fermata dell'autobus questa chiavetta usb che era stata lasciata appositamente da kalim per massimo solo che poi viene investito e come ben sappiamo questa chiavetta sparirà quando lui si risveglia dopo due settimane di coma farmacologico non trova più la chiavetta usb e quindi deve cercare di capire chi sia stato a trovarlo e inizia a sospettare dopo anche il dialogo con oliver harris che a sua volta viene inseguito da degli uomini che gli entrano anche in macchina in un momento in cui ha anche un rapporto difficile con la moglie a cui tiene segreto tutto ciò scopriamo che nadia abbia preso la chiavetta perché aveva ascoltato un dialogo di dominic e dell'altra tizia con cui lavora dominic e che quindi volessero fare il doppio gioco con massimo siccome nadia sa che ruggero stia facendo la cosa giusta prende la chiavetta a costo di mettersi tutti contro perché poi questa cosa sarebbe stata svelata e gliela restituisce gliela restituisce quando e quando ad un certo punto ormai nadia è spacciata deve scappar via se non vuol vivere dei momenti spiacevoli ci rendiamo conto che attraverso il resoconto di questi dati lasciati sulla chiavetta usb che ci siano le prove della presunta manipolazione sull'esito del referendum della della brexit della brexit perché secondo gli studi di damian cartis il remain avrebbe vinto quindi copiano il contenuto su un cloud per far sì che anche se la chiavetta venisse persa o rubata da qualcun altro i dati fossero ben salvati e protetti solo che poi daniel duval recupera la chiavetta la da dominic morgan che scopre quindi il che scopre quindi che nadia lo abbia tradito c'è quel faccia a faccia sul finire della puntata che non lascia trasparire nulla di buono e devo dire che siano state due puntate decisamente interessanti decisamente ben scritte per quanto si possa sembrare un po forzato che dopo tutto questo tempo sia ancora presente la chiavetta alla fermata dell'autobus è vero che era stata ben nascosta però questa cosa mi ha fatto un attimo pensare dai qualche forzatura ogni tanto c'è però ai fini della trama non è così grave eccoci sicuramente è un po assurdo che con i giorni che trascorrono si abbia avuto la fortuna di trovare la chiavetta ancora intatta senza che nessuno nemmeno per sbaglio abbia messo la mano dentro trovandola però ecco vabbè indipendentemente da questo anche tutta la sottotrama inerente a questo sondaggista ucciso in bicicletta che lavorava per Nakamoto il fatto che Oliver Harris venga proposto come nuovo head of trading e che G sia incinta e che lo dica a Massimo però Massimo le dice guarda che se questa cosa venisse scoperta saresti nei guai anche tu perché si capisce che c'è qualcuno che vuole mettere fuori gioco queste persone che potrebbero essere delle spine nel fianco per quanto riguarda questa guerra sui dati il monopolio del potere con dietro dominic morgan a tirare le fila quanto è bello anche ogni momento in cui ci sono questi primi piani su dominic morgan un grande patrick dempsey che lasciano trasparire tantissimo attraverso la comunicazione non verbale il personaggio di patrick dempsey mi ricorda il lion and luther della serie smallville mi piace moltissimo quindi è anche una bella doccia fredda per massimo ruggiero lo scoprire che lo stesso spyware che si trova in due posti diversi sia lo stesso di dominic morgan sia lo stesso che utilizzava dominic morgan anche per controllare l'eway alla banca all'nyl quindi effettivamente massimo che si era fidato di lui della sua spac che aveva portato elenor che aveva portato aveva provato a portare oliver harris beh ora si sente un'altra volta sotto pressione quindi ecco diciamo che queste due puntate ci lasciano proprio sul più bello e sono molto curioso di vedere cosa possa accadere perché con tanto di scena ambientata durante l'expo di milano si capisce che fin dagli anni scorsi dominic morgan aveva già capito il potenziale dei cinesi di quanto avrebbero voluto monopolizzare qualsiasi cosa e quindi di quanto il potere potesse essere e sarebbe poi potuto essere nelle loro mani e quindi agire con anticipo a costo di lasciarsi dietro di sé vittime io sono curioso di vedere cosa accadrà nelle ultime due puntate perché ricordiamo che questa anche storia sull'app di tracciamento ti faceva ben capire che con questa app di tracciamento se ci fosse un'epidemia verrebbe utilizzata per sapere tutto di noi è un'app salva vita ma se ci fosse un'epidemia sai quanti soldi si sarebbero potuti guadagnare quindi sapendo del covid e di tutto ciò che è accaduto io apprezzo anche il coraggio di voler iniziare delle sottotrame che non so con quale sotto con quale risposta potrebbero concludersi con quale soluzione di sceneggiatura potrebbero concludersi però effettivamente vediamo sono molto speranzoso di vedere due episodi che riescano a colpirmi ricordando che la seconda stagione di diavoli inizi con un flashback che parta dai tempi d'oggi a milano durante il covid o perlomeno nel primo lockdown quindi ne parleremo ora mi devo zittire parlerei ancora di più ma sto veramente perdendo la voce però per voi queste d'altro il video lo dovevo portare a termine come l'antico vaso che andava salvato la recensione andava fatta fatemi sapere nella sezione commenti cosa ne pensate fatemi sapere dove si possa andare a parare secondo voi ma soprattutto ricordatevi che nelle info trovereste tutti i link per abbonarvi al canale e che abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana oltre a lasciarvi anche i link per seguirmi sulle mie pagine social un caro saluto e alla prossima